Oggi non parliamo esattamente di Anthem quanto piuttosto di Bioware, uno studio di sviluppo che sembra star andando in pezzi nonostante sia stato in passato uno dei team più amati dai giocatori di tutto il mondo. Per andando in pezzi intendiamo ovviamente che numerose figure chiave all'interno dello staff se ne stanno andando. Pochi giorni fa infatti abbiamo saputo che Ben Irving che sarebbe il lead director di Anthem ha deciso di lasciare Bioware ed Electronic Arts per dedicarsi ad altro. Cosa sia questo altro ovviamente non lo possiamo sapere. In questi casi infatti quando determinate figure di spicco vengono silurate dai piani alti delle aziende vengono rilasciate delle dichiarazioni che lasciano molto il tempo che trovano e che hanno il compito di fare un po' di damage control ovvero assicurare e rassicurare sia i fan che gli investitori riguardo il buono stato di salute di una compagnia che in realtà potrebbe non stare esattamente in salute. Ben Irving nella fattispecie ha detto di aver ricevuto un'offerta un qualche tipo di opportunità che ha deciso di cogliere al volo. È possibile magari che qualche altro studio di sviluppo l'abbia voluto prendere sotto la sua ala protettrice che magari abbia un offerto di dirigere un nuovo progetto che si sta sviluppando adesso da zero. È veramente difficile dirlo ed è altrettanto possibile che siano tutte cavolate che in realtà il tizio sia stato malamente licenziato da Electronic Arts. Questa seconda ipotesi è plausibile perché come sapete da poco è stato rilasciato il cataclisma in Anthem. Il cataclisma sarebbe questa sorta di evento che dura sei settimane e che avrebbe dovuto in qualche modo risollevare le sorti del gioco. Ora la qualità di questa nuova attività è buona, tutto sommato buona, ci si diverte e i contenuti introdotti ovviamente in forma gratuita sono tutto sommato piacevoli ma sono anche molto lontani dal rappresentare una sorta di redenzione per questo gioco. Cioè anche se è vero che hanno arginato alcuni difetti macroscopici di Anthem come ad esempio il drop rate dei loot è altrettanto vero che tantissimi altri difetti permangono ad esempio appunto il sistema di progressione e il fatto che tutto è estremamente randomico seppur adesso non più legato tantissimo alla LAC. Sicuramente Electronic Arts ha voluto tenere d'occhio la ricezione del cataclisma da parte della community sperando che ci fosse una sorta di ritorno di tanti giocatori che magari avrebbero ripopolato i server. Ora nella mia esperienza personale devo dire che c'è molta più gente che gioca rispetto a prima ma è anche vero che prima era francamente un deserto quindi è difficile andare a dire se effettivamente siano tornate tante persone o semplicemente qualcuno e il matchmaking cerca di far incontrare quei qualcuno che ci sono in giro. E' possibile quindi che i numeri non siano stati soddisfacenti per Electronic Arts che magari si aspettava qualcosa in più e che alla fine abbia deciso di eliminare Ben Irving che magari non è stato capace di portare dei risultati soddisfacenti. Certo è che è facile prendersela con il signor Irving quando in realtà il problema reale è stato il fatto che lo sviluppo di Anthem sia stato qualcosa di assolutamente inconcepibile con sei anni di lavori buttati allegramente nel cesso e gli ultimi sedici mesi di crunching con gli sviluppatori che andavano in depressione e si facevano trovare nei camerini mentre esplodevano nelle loro crisi di pianto. Non sto scherzando se volete andate a guardarvi i nostri approfondimenti. Quindi Ben Irving se n'è andato e adesso non c'è più un direttore per Anthem. Non si sa che cosa succederà dopo il cataclisma che ormai è veramente avviato verso la sua conclusione. Non c'è una roadmap chiara perché ricordiamo che questa è stata cancellata totalmente dal sito e non si sa quindi quali siano i piani futuri per il gioco. E all'ultima conferenza con gli investitori Electronic Arts praticamente non ha menzionato Anthem, ha fatto come se non esistesse. Il gioco è stato nominato soltanto due volte all'interno di tutta la conferenza contro le circa 45 volte di FIFA e l'azienda non ha parlato in alcun modo di quelli che potevano essere i piani per il futuro del franchise. Conoscendo Electronic Arts penso che nessuno si sorprenderebbe se questi signori se ne uscissero con una sparata tipo oh raga abbiamo fatto sto gioco vi è piaciuto siamo contenti non vi è piaciuto peccato comunque non lo aggiorniamo più ci dispiace grazie per la vostra cooperazione. Sarebbero infatti una situazione un po' Mass Effect Andromeda quindi tutto sommato niente di strano sotto il sole. Possibile è anche che a questo punto il team di sviluppo non vada ad aggiornare la roadmap perché magari sia in programma un qualche tipo di lavoro alla No Man's Sky in cui lo sviluppatore mantiene il silenzio per un tot di tempo e comincia a lavorare a contenuti senza fare troppa pubblicità ma migliorando il proprio prodotto in maniera costante. Altra possibilità da non escludere è l'idea del reboot ovvero una situazione in cui Bioware se ne sta in silenzio per sei mesi dove non arriva nessun tipo di aggiornamento e poi all'improvviso ti dicono sapete ragazzi stiamo per rilasciare Anthem 2.0 un po' come è successo con Final Fantasy 14. Questo però richiederebbe ovviamente una interruzione del servizio e una mancanza totale di aggiornamenti per un certo periodo. Sono comunque tutte solo supposizioni. La verità la sa soltanto Electronic Arts. Ma continuiamo a parlare di Bioware perché i suoi problemi non sono legati esclusivamente ad Anthem ma anche ad altri prodotti nella fattispecie Dragon Age 4. Allora quando venimo a sapere dei problemi riguardo Anthem molti di noi sospettarono che Electronic Arts potesse avere intenzione di chiudere totalmente Bioware a causa degli insuccessi degli ultimi anni. Pensiamo appunto a Mass Effect Andromeda e allo stesso Anthem. Sono dei buchi colossali in termini economici. Attraverso una serie di report fatti sia da Kotaku che da altre fonti abbiamo appresso che le stesse problematiche viste in Anthem si stavano verificando anche durante lo sviluppo di Dragon Age 4 che attualmente è in fase di produzione e da poco ha subito una sorta di riavvio dei lavori. L'idea iniziale era di proporre a quanto pare un Dragon Age allineato ai tre capitoli della serie principale già rilasciati ma strada facendo Electronic Arts ha deciso che invece voleva un live service ovvero un gioco di ruolo che fosse sì tradizionale come un classico VRPG ma che al tempo stesso desse la possibilità di offrire degli aggiornamenti contenutistici costanti con eventi e che potesse quindi venire monetizzato sul lungo periodo attraverso microtransazioni. Questo dovrebbe essere il Dragon Age 4 attualmente in sviluppo. Oggi apprendiamo invece che ad andarsene via da Bioware è Fernando Melo che per chi non lo conoscesse è il lead producer di Dragon Age 4. Parliamo quindi del direttore del progetto che se ne va a distanza di tre giorni se non erro dal direttore del progetto Anthem. Coincidenza? Eh potremmo pensare sicuramente che sia una coincidenza ma diciamo che le probabilità che questo sia vero sono davvero poche. È più probabile che in Bioware stia succedendo qualcosa di molto serio. Quello di cui ci accorgiamo fondamentalmente è che da un po' di tempo a questa parte tantissime figure rilevanti di questo team di sviluppo se ne stanno andando e che in effetti della vecchia Bioware, la Bioware di Baldur's Gate, la Bioware quella che ha lasciato il segno nell'industria dei videogiochi, è rimasto veramente pochissimo. I ragazzi che ci sono adesso sono sicuramente degli sviluppatori talentuosi ma la dirigenza che c'è adesso chi sono? Quanto valgono effettivamente? Perché se il metro per valutare questi nuovi signori è Mass Effect Andromeda o è Anthem allora abbiamo un problema. Anche in questo caso nei tweet postati da Fernando Melo si cerca di sottolineare discorsi tipo sì questa è stata la mia decisione, non c'entra niente il team di sviluppo, non c'entra niente il publisher, è tutta una cosa che ho deciso di fare io per inseguire dei miei obiettivi personali bla 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 bla. Né più né meno di quanto detto da Ben Ayerbing quindi non sappiamo se questa sia effettivamente la verità o se in realtà ci sia altro sotto e semplicemente questi signori non possano dire che cosa stia succedendo. Ma a prescindere da quello che dicono è chiaro che la situazione in Bioware in questo momento non possa essere particolarmente allegra tra una dirigenza che a un certo punto se ne va, un Anthem che continua a trovarsi in una situazione molto negativa dal punto di vista commerciale a dispetto di un lento miglioramento, delle condizioni lavorative su cui abbiamo già approfondito abbondantemente e che non sono esattamente il paradiso in terra per i dipendenti, è un Dragon Age 4 che sembra trovarsi su binari pericolosamente simili a quelli su cui ha viaggiato Anthem. Il punto è che se sei Electronic Arts non guardi tanto ai nomi degli sviluppatori che lavorano per te ma tendi più a dar peso a quanti soldi portano nelle tue casse. E da un po' di anni a questa parte mi sembra che Bioware stia spendendo più di quanto non faccia effettivamente guadagnare al publisher. Magari è per mancanza della dirigenza della stessa Bioware, magari è per decisioni assurde di Electronic Arts come la volontà di rendere Dragon Age un live service, magari è perché hanno dovuto costringere tutto lo studio di sviluppo a lavorare esclusivamente su Frostbite Engine che non c'entrava assolutamente nulla con un gioco come Anthem. Magari è l'insieme di tutta una serie di fattori che hanno trasformato un team valido, talentuoso e dal pedigree invidiabile in una sorta di barzelletta che oggi nel presente ha l'unica preoccupazione di non diventare un meme divertente da postare sul 9gag. Perché dopo un po' la community comincia a fare ironia, cioè all'inizio ti puoi anche incazzare perché ti senti truffato e tutto il resto, però poi ti blocchi su quelle animazioni facciali allucinanti di Mass Effect Andromeda, ti blocchi sui bug vergognosi di Anthem, ti blocchi su quei tempi di caricamento che poco per volta ci stanno trasformando in fossili, ti blocchi sull'assurdità di una situazione che è palesemente sfuggita di mano. Adesso mi sembra veramente difficile fare pronostici sul futuro di Bioware, potrebbe accadere di tutto come potrebbe non accadere nulla, ma è indiscutibile che sempre più elementi ci fanno pensare che la situazione evolverà nel peggiore dei modi. Per questo aggiornamento è tutto, come al solito vi invito a condividere, lasciare un like e iscrivervi al canale, noi ci risentiamo alla prossima!